Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Andrea e oggi vi voglio portare in un gioco che ci avete giocato forse in pochi, in pochi forse... Vabbè comunque resta il fatto che è un gioco che è rilassante possiamo dire, possiamo dire che è qualcosa di... non lo so, però è molto carino, bisogna cliccare con... bisogna colorare, ecco colorare i personaggi, le cose e poi ci sono anche le cose enormi che sono tipo da boh quanti pezzi. E niente, il gioco è questo. Oggi ci giochiamo insieme, visto che non sapevo cosa fare, quindi ci giochiamo insieme, insieme tutti quanti. Niente, allora se sentite un po' di musica, non ho messo la mia sorella, che non lo so, si voleva stendere sul letto, vabbè, facciamo i cavoli nostri. Allora, non è che sto facendo lo sponsor a questo videogioco, solamente per portare qualcosa sul canale, visto che non sapevo più cosa portare nel canale, che non sapevo proprio cosa, mettevo solamente i video, sapete, delle processioni che ho messo, giusto quelli che avevo e mettevo. Quindi non... non sapevo proprio cosa fare, cosa portare in questo canale. Fatto... facciamo solamente questo e poi ci salutiamo. A posto, abbiamo fatto un pesce. Niente, raga. E... ciao.